Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi presento il mio drone, il Parrot Bebop 2, la versione con Sky Controller, due batterie e un casco per fare l'FPV collegato direttamente con il vostro smartphone Android o Apple. Questa è la scatola del Parrot, la seconda parte della confezione di questo pacco per l'FPV comprende questo casco che potete vedere che è semplicemente un contenitore per il vostro smartphone che verrà collegato via USB al radiocomando che ha una potenza di 2.4 GHz, ormai uno standard per il modellismo, più la possibilità di settarlo a 5 GHz, possibilità di arrivare fino a 2 km. Qui come potete vedere abbiamo la sua batteria originale che è una 2700 mAh tre celle che viene ricaricata solo ed esclusivamente con il suo caricabatterie dedicato con questo, non può essere ricaricato con una micro USB, questa è la sua batteria secondaria. Qui potete vedere i motori brushless, i quattro motori brushless mini. Devo dire che a livello costruttivo io ho fatto elicotteri per un sacco di tempo che avevano un prezzo un po' diverso da questo, tipo anche 3000 euro per un elicottero finito senza radiocomando e qui ci troviamo davanti a una chicca perché qui abbiamo un volo computerizzato, autostabilizzato, con ritorno a casa, abbiamo atterraggio e decollo preimpostato, quindi moltissime cose che si facevano con i modelli una volta li fa tutti lui in automatico, quindi il volo è molto molto facilitato da questo. Bene ragazzi, una minima presentazione, non sono stato troppo a farvi vedere i componenti che comunque potete vedere sul link che metterò in descrizione e perché non andare a farci un bel volo dai! Invenenza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti